sono cominciati oggi gli allenamenti delle giovanili giusto? sì dai oggi iniziano gli allenamenti di tutti i gruppi con quelli un po più grandi abbiamo già iniziato da da un paio di settimane ma con oggi inizia ufficialmente la stagione di tutte le giovanili della portoro di tutte le squadre tutte le età diciamo tutte le annate oppure c'è un limite cioè da che da che anni cominciamo? noi cominciamo dall'under 12 quindi 2014 2015 fino ai 2006 perfetto grazie mille francesco ciao